Oggi è stata una bellissima giornata di sport, l'entrata era limitata per i motivi che sappiamo diciamo che lo stadio di Marmi sarà la sede del warm up dello stadio olimpico quindi è finito ma ancora non è prontissimo però le 2000 persone che c'erano si sono potute divertire avendo un antipasto di quello che saranno i campionati d'Europa che si svolgeranno tra tre settimane proprio qui a fianco all'Olimpico come avete visto il protagonista in discorso è stato Marcel Giacos che ancora adesso sta firmando autografi credo che sia stata una giornata veramente bella ma soprattutto un bellissimo preview di quello che sarà il campionato d'Europa dal 7 al 12 giugno